I sindacati entrano a gamba tesa nella discussione sull'imminente riforma sanitaria al baglio di Regione Lombardia. Martedì mattina saranno in punti strategici del territorio per spiegare ai cittadini le proposte che hanno messo in campo. Alle 8.30 fino alle 10 all'ospedale Morelli di Sondalo e all'ospedale di Morbegno. Tra le 11.00 e mezzogiorno saranno davanti all'ospedale di Sondrio e quello di Chiavenna, dalle 12.00 alle 12.30 presso la sede di ATS Montagna a Sondrio. Per garantire la salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, riteniamo che sul nostro territorio serve immediatamente un cambio di rotta rispetto ad alcune azioni urgenti, recita la nota diffusa da CISL, CGL e UIL. Principio che si deve tradurre in una serie di azioni concrete. Arrestare il processo di esternalizzazione e di impoverimento della rete ospedaliera provinciale. Reperire medici di medicina generale e infermieri di famiglia per essere più vicini ai cittadini. Investire sulla telemedicina e sulla presa in carico dei pazienti cronici. Rivolgere particolare attenzione alle RSA. Investire sulla formazione e incentivare il personale sanitario e socio-sanitario a lavorare anche negli ospedali provinciali e spesso rifugiti in virtù delle strutture più grandi. Valorizzare i nostri presidi e ancora realizzare case della comunità diffuse sul territorio Per avvicinare le prestazioni ai cittadini, la pandemia ha messo in evidenza tutte le debolezze del sistema sanitario e socio-sanitario regionale, evidentemente provinciale, con grandi ricadute sui cittadini a partire dalle fasce più deboli e vulnerabili, sui lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati. Noi denunciamo da tempo la povertà e il continuo depauperamento della nostra rete ospedaliera, da un lato, e la mancanza dei giusti investimenti sul territorio dall'altro, proseguono i sindacati e concludono una riforma, in questo senso, non è più rinviabile.